fioi non mi sento più le gambe non ci crederete ma sono veramente stanco soddisfatto sì infatti mi sa che adesso torno ancora sono i primi giorni non riesco a fare più di mezz'ora dir tanto giù nel bosco perché è massacrante allora vi ho parlato di raccolta fortunata effettivamente vedete questo tutti i porcini questo questo sono quelli del pino per questo sono così e scuri anche all'interno questa è una splendida mazza di tamburo splendida mazza di tamburo che bisogna far fritta e poi c'è questo questo è un puff visto che devo friggere la mazza di tamburo faccio anche questo fungo fritto viene sottovalutato tantissimo questo fungo ma è veramente veramente buono e niente questo il mio raccolto di oggi direi che sono molto soddisfatto sì a titolo informativo quello che prima ho chiamato puff il nome quello corretto è vescia qua lo chiamano puff e l'ho sempre chiamato puff anch'io però si chiama vescia e fate attenzione perché anche se siete in città lo potete trovare anche nei parchi è molto buono ma fate sempre attenzione e poi un giorno vi spiegherò come riconoscere una vescia da uno scleroderma che sono quelli invece velenosi molto velenosi quindi non fate cavolate però sappiate che è un fungo che si trova ovunque